Pala sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, c'è un momento in cui i polsi si incrociano, destra, sinistra, la mano destra rimane sopra, destra, scrolla, sinistra, destra, sinistra, sopra le mani incrociate, destra, sinistra, dopo i polsi, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, proviamo a fare un pochettino di più continuato senza navigare, sempre con le spalle, se vediamo.